Salve tutti e ben tornati in questo nuovo video, ovviamente in questo nuovo video vi farò vedere se potete supportare questo nuovo Dark Souls Lord Soft Fall, ovviamente lo metteremo a confronto con le nostre specifiche, quindi con la nostra configurazione hardware nel nostro pc, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato due link che ti porteranno su queste due pagine per capire quanti fps farai sul nuovo gioco e se puoi supportarlo prima di comprarlo, ok? Quindi se lo compri su Steam e ti lagga puoi chiedere un rimborso, se invece lo compri su altri siti quindi compri la chiave, non credo che ti possano fare il rimborso, tipo come Instant Gaming una volta avevo comprato un gioco e non mi hanno fatto il rimborso, un gioco di 5€ quindi in questo caso andiamo a cercare il nostro gioco, quindi il gioco Lords of Fallen questo qua una volta cercato Can you run it? Clicco sopra, ovviamente dovete anche scaricare un'applicazione, quindi farà il modo di vedere farà un rilevamento della vostra configurazione, quindi scheda video, processore, RAM, tutto quello che serve quindi io ho una 1660 Super come scheda video, Ryzen 5 3600 a 6 core, 16 GB di RAM e sistema operativo Windows 11 quindi in questo caso io nelle specifiche, minimo, 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 lo supporto invece nel consigliato solo la RAM video, quindi la VRAM della scheda video io non riuscirò a supportarla quindi su quest'altro sito invece ti dirà quanti FPS farai sul gioco quindi io adesso vado a mettere il mio processore, quindi Ryzen 5 3600 se non sai che tipo di processore, scheda video, RAM o sistema operativo hai tu basta che vai su Sidestem Information e lì troverai tutto quello che ti serve per la scheda video invece, DXDH e qui vedrai che scheda video hai nel tuo PC quindi scheda video metto 1660 Super RAM 16 GB Windows 11 64 bit ok eccolo qua quindi in questo caso se io proverò a giocare a Full HD con la grafica alta farò all'incirca 40 FPS 1440p 30 FPS e in 4K 25 FPS quindi quello che mi resta da fare è giocare con la grafica media o bassa in Full HD e farò tra i 50 e 45 FPS però questo è quindi in questo caso queste sono le nostre specifiche requisiti minimi che possiamo supportare sul gioco quindi queste sono le mie quindi metti a confronto anche le tue prima di comprare il gioco quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti e lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao